Gli studenti dell'Istituto Comprensivo Gatto di Battipaglia hanno deciso di mobilitarsi contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Lo strumento che utilizzeranno è quello di un flash mob in programma domani, giornata dedicata dunque al tema della sicurezza online. Parteciperanno gli alunni della scuola secondaria di primo grado e le classi quinte della primaria, dalle ore 11 in piazza Aldomoro per una riflessione sul tema e per una manifestazione musicale. L'evento nasce dal progetto di istituto Bullismo Cyberbullismo? No grazie, finalizzato a sensibilizzare i ragazzi ad un uso corretto e responsabile della comunicazione multimediale.